Ma come li fanno i neonati nei film? Sono veri? Sono dei bambini veri? Oppure usano i bambolotti? Ecco, in questo video cercheremo di capire come vengono scelti, come si fa a farli recitare, ma soprattutto che cos'è quella sostanza viscida che li ricopre dopo il parto. Partiamo dal presupposto che il regolamento di Hollywood prevede che nei film possano essere mostrati solo bambini nati da almeno 15 giorni. Quindi sono neonati nati altrove che hanno almeno due settimane di vita, quelli che vediamo. A me capita spesso di dire ma sto ragazzino sembra che c'ha sei mesi o un anno perché sembrano troppo grandi fisicamente già formati rispetto a un bambino appena nato. Ci sono poi casi, soprattutto nei documentari, in cui succede che un parto viene ripreso dal vivo, ma sono casi eccezionali e che hanno bisogno di diversi permessi speciali per essere realizzati. In generale, quindi, i neonati che si vedono nei film non sono appena nati. Avete presente la commedia molto incinta? Per quel film il regista voleva riprendere una vera nascita, ma si è scoperto che non si poteva perché il bambino non ancora nato non poteva essere un membro del SAG, cioè del sindacato degli attori di Hollywood. E quindi non aveva 15 giorni per poter essere mostrato in un film. Così hanno creato una finta parte inferiore del corpo di una donna e hanno fatto uscire una testa da lì. Tra l'altro, sempre secondo il regolamento di Hollywood, i bambini non possono lavorare più di 4 ore al giorno. E all'interno di queste 4 ore possono passare solo 20 minuti davanti alla cinepresa. E dato che quei 20 minuti comunque sono pochi per riuscire a fare una scena e farla fatta bene, i registi prendono più di un neonato, in genere ne scelgono 4, che si assomigli con gli altri anche a livello di capelli, di occhi, insomma che abbia la stessa conformazione fisica e li alternano all'interno della stessa scena. Ne usano uno per i primi 20 minuti, poi un altro e così via. E se devono fare una scena in cui un neonato non è in primissimo piano, per esempio quando si vede in una culla, usano una bambola. Non sempre, però tutto va al liscio. In American Sniper, di Clint Eastwood, ad esempio, non è stato usato nessun neonato, nemmeno per le scene in primo piano. Molti spettatori se ne sono accorti, soprattutto nella scena in cui Sienna Miller, l'attrice protagonista, insieme a Bradley Cooper, allatta un bambolotto palesemente di plastica. E se un bambino si addormenta? Vietato svegliarlo. In questo caso si cerca un neonato di riserva, cioè uno di quelli che non ha ancora fatto i suoi 20 minuti davanti alla telecamera. Tra l'altro tutti i soldi guadagnati dagli attori bambini vanno in un apposito fondo che questi ragazzi potranno utilizzare solo al compimento dei 18 anni di età. E che cos'è quella roba viscida che si usa per ricoprirli quando nascono per finta? È uno sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio, più o meno la stessa cosa che si usa per fare il sangue finto. Ma si può variare. Ad esempio per il film Molto Incinta sono stati usati gelatina d'uva e formaggio cremoso, sempre roba commestibile e non tossica ovviamente. Per farli piangere invece è molto semplice. Gli si toglie un giocattolo, si chiede alla madre di uscire dalla stanza, insomma tutte cose che avvengono anche nella vita reale, che inducono il bimbo a piangere. È più difficile farlo smettere. Spesso infatti ci si mette tutta la truppa a coccolarlo e a calmarlo insieme ai genitori. Chiudiamo con due piccole curiosità. Michael Francis Recy, il bambino non neonato, battezzato nella famosissima scena del padrino, è in realtà una bambina, si chiama Sofia Coppola, che sarà poi la regista del terzo padrino, nonché figlia del grande Francis Ford Coppola. In Pisa of a Woman con Vanessa Kirby invece è stato usato un vero neonato nel lungo piano sequenza che ritrae il parto dentro casa della protagonista. I genitori, ha raccontato il regista, erano nascosti nell'armadio con in braccio il bimbo vero e sono usciti non appena la telecamera si è girata per inquadrare l'ostetrica che c'era nella stanza. Insomma, c'è un vero e proprio mondo dietro i neonati nei film? Fatemi sapere se avete altre curiosità da raccontarci nei commenti, iscrivetevi al nostro canale YouTube, c'è anche azione, seguiteci su Facebook e Instagram dove tutti i giorni parliamo di film e serie di book. Al prossimo video!